Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Gesù Cristo, tanti auguri a te. Allora oggi è il Santo Natale, il gran varietà religioso comincerà alle ore 9 e 30. Il cappellano Charlie vi farà sapere come il mondo libero riuscirà a far fuori il comunismo, con l'aiuto di Dio e di alcuni Marines. Dio ci si arrapa con i Marines perché noi ammazziamo tutto quello che vediamo. Lui fa il suo mestiere, noi facciamo il nostro e per dimostrargli il nostro apprezzamento, per averci dato tanto potere, noi gli riempiamo il cielo di anime sempre fresche. Dio è arrivato prima del corpo dei Marines e quindi a Gesù voi potete offrire il cuore, ma il vostro culo appartiene alla nostra arma. Signorine, sono stato chiaro? Sì, sì, signore! Non ho sentito niente! Sì, sì, signore! Sì, sì, signore!